Da Babeli alla Macedonia oggi parliamo di etica nella comunicazione, di etica nell'informazione, di etica più in generale, ma lo facciamo partendo da uno spunto preciso. Ci sono le vicende di Vatili X2, ci sono le vicende dei film che escono sulla pedofilia nella chiesa, ci sono tutta una serie di eventi che capitano in cui la notizia è bella, è accattivante perché è brutta. Quindi c'è un'etica dell'orrido, del pruriginoso e dell'accattivante in quanto stimola i nostri lati peggiori. Allora di fronte a questo l'etica come la possiamo collocare oggi? C'è una caduta di etica in generale? Allora per rispondere alla prima domanda che anch'io elimino in un secondo, tenere presente che a proposito di tutta la vicenda del Vatili X o quello che sta succedendo nella chiesa o sta venendo fuori nella chiesa, davvero il proverbio che fa più scalpore un albero che cade che una foresta che cresce, bisogna tenerlo presente perché se no siamo abituati a fare di ogni erba un fascio, tutti sono cattivi perché ce ne sono alcuni. La seconda cosa riguarda l'etica. Allora l'etica nasce come comportamento dell'uomo, con se stesso, con i suoi simili all'interno di una società. Allora la domanda è molto semplice. Che concezione noi abbiamo oggi dell'uomo? Che visione abbiamo oggi dell'uomo? Che consistenza c'è dell'umanum? Non si sta forse sgretolando tutto a tal punto che poi l'etica corrisponde a un'immagine di uomo e di vita che mi sono costruito. Allora l'etica si abbassa sempre di più oppure si esaspera sempre di più. Si esaspera nel senso di dire siccome sono venute meno certe regole, allora l'uomo non esiste più. Invece l'uomo esiste. Allora questo è molto importante, mi sembra molto importante perché se non capisco questo allora diventa effettivamente il pruriginoso. Si confonde l'etica con il sensazionalismo. Voglio portare alla ribalta il fatto che mi sembra essere immorale per poter ultimamente suscitare un certo interesse e basta. C'è anche, devo dire, in fondo se la Chiesa è attaccata così tanto per esempio è perché comunque c'è un'attesa. Dalla Chiesa ci si aspetta che siano in un qualche modo più etici di altri. Certamente, bisogna avvertire però che anche la Chiesa è fatta di uomini quindi con le sue debolezze. Ma che si richieda alla Chiesa di essere nella società un punto di riferimento, quindi nella concretezza delle persone, specialmente i responsabili, io credo che sia l'esito positivo di questa canea che si sta sviluppando sempre di più. è la gente che esige che ci sia una certa coerenza tra la trasparenza che vuoi affermare e poi la trasparenza in atto, cioè una vita che deve essere in qualche modo espressa attraverso l'onestà, la sincerità degli atteggiamenti. Credo che fosse Giovanni Paolo II o addirittura Paolo VI che diceva oggi non c'è bisogno più di maestri ma di testimoni. Allora l'etica credo che è una cosa da testimoniare. Anzitutto, anzitutto. Ecco però allora a questo punto mi viene da dire ma noi abbiamo degli strumenti in fondo per dire un'etica diversa, no? Penso per esempio al nostro atteggiamento, non è che ha fatto dell'informazione, all'uso che facciamo dei mezzi di informazione, alla maniera che... Ma io mi domando se anzitutto i giornalisti si pongono ancora il problema etico o solamente il problema commerciale di vendere il più possibile. Quanto più è pruriginoso ciò che metto sul piatto, tanto più avrà un riscontro. C'è ancora un'etica giornalistica? C'è ancora una profondità di analisi delle cose che succedono in modo tale che io possa dare al pubblico cose realmente consistenti? E dove sono le mie fonti da cui attingo per portare alla ribalta certe notizie? Effettivamente se io prendo le notizie che mi vendono di sottobanco io ho qualche problema ad accettare come etico questo modo di portare, come dire, alla ribalta appunto le notizie. Ecco certo però che è anche vero che oggi per esempio si è innalzato tantissimo il criterio di qualità per esempio dell'informazione o dello spettacolo in un certo senso informazione. Oggi non possiamo più, io credo, cioè noi stessi siamo qui in una situazione virtuale, no? Perché qui sotto le mura di Babele fa caldo effettivamente, no? Ecco ma voglio dire, siamo anche noi in una situazione virtuale perché stiamo cercando di trasmettere qualche cosa che sia fruibile da un pubblico che oggi non si accontenta più di due seduti in un salotto a chiacchierare, no? E qui bisogna mettere a confronto se il virtuale aiuta a far emergere il reale oppure il virtuale fine a se stesso, cioè un qualche cosa che ultimamente non esiste ma che architetto in modo, come dire, specioso a tal punto che la gente ci creda quello che io vendo. Vabbè però non tirarti a zappo sui piedi adesso c'è, vi dire, stiamo, ci siamo in mezzo, no? Io credo che sia buona cosa. No ma il nostro dialogo penso che non sia virtuale, sia effettivamente se lo sfondo poi lo è, è per accattivare anche una certa attenzione, ma io e te stiamo parlando di cose reali, concrete e penso anche di avere un atteggiamento di serietà nei confronti dei nostri ascoltatori che vogliamo fornire delle possibilità di riflessione.